...quartetto di Marco Pacassoni, Estival 2015, buon Estival, buon divertimento a tutti! Eccolo Marco! Ciao Marco! Grazie a tutti! 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 Questo brano si intitolava On the Riverside, è un brano composto come avete sentito in tre parti ed è un po' come un pochettino come sono influenzato, camminando in riva al fiume ascolti contemporary jazz, musica classica e anche un po' di Pink Floyd che non guastano mai. Il prossimo brano è una ballad e si intitola L'Alabai for Blondie. L'Alabai for Blondie 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 Grazie a tutti. 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 Fantastici, fantastici. a tutti. 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 a tutti.